Brusco rientro dalla sosta post-Coupa Italia per la VL che alla vitrifrigoarena crolla con Brindisi con un 70-100 che mette il carico al momento negativo dei biancorossi e ne evidenzia la lacuna dei mancati rinforzi nel roster. Una criticità ammessa dallo stesso Repesia a caldo del post-partita. Senza totè infortunata e con Ciara Lampopoulos che va a KO dopo due minuti, la VL sta in partita solo nel primo quarto per poi subire Brindisi che prende il largo infilando una serie di parziali. Dal più 16 di fine primo tempo al più 19 di terzo quarto fino al 70-100 finale che ribalta clamorosamente anche il più 28 della VL in terra pugliese all'andata. Rinforzi a parte, nel post-partita Repesia fa anche mea culpa per una VL che non si è dimostrata squadra. Nessun sorriso nemmeno per la Vispesero che china il capo alla forza della capolista reggiana che passa al Benelli 0-3 conquistando un altro passo verso la serie B. La Vis resta in gara a mezz'ora e poi cede su calcio d'angolo al gol del difensore Kautz al 27esimo. Nel cuore della ripresa lo 0-2 arriva ancora su calcio d'angolo e con un altro difensore, il capitano Rozzio, prima dello 0-3 firmato dal subentrato Varela. È una sconfitta che fa scendere la Vis da sest'ultima a quart'ultima, ovvero in piena zona play-out. In serie D l'Alma Fano reagisce al caos societario che la circonda travolgendo 5-1 l'Avezzano grazie alle reti di Capezzani, Schiaroli, Broso, Nappo e Drolè. Nelle rugby continua il mal di trasferta per la Fiorini-Pesaro che perde a Livorno incassando la quarta sconfitta consecutiva. Dopo un primo tempo chiuso sul 17 pari, i Toscani vincono il match 36-20. Nella pallavollo giuisce invece la Megabox Vallefoglia che Urbino batte 3-1 la Virtus Bergamo ottenendo la seconda vittoria consecutiva e ammiccando a un pensierino ai play-off.